Non è stato un anno pirotecnico, molto, molto di più. Un anno intenso su tutti i fronti. Lo ha dichiarato il sindaco di Fano Massimo Seri durante la tradizionale conferenza di fine anno che quest'anno si è tenuto in una location d'eccezione, il Palazzo Malatestiano, che ospita la mostra dedicata al Perugino. Affiancato dagli assessori, il sindaco ha iniziato il discorso rivolgendo un pensiero alle vittime della tragedia di pochi giorni fa, avvenuta nella galleria tra Fermignano e Urbino. Il primo cittadino ha ribadito poi come la città si sia relazionata con grande sforzo, anche economico, in uno spirito di cooperazione tra i vari enti. Di seguito sono state illustrate le opere in cantiere, l'attenzione e la cura per i singoli quartieri che devono essere vissuti per migliorare la qualità di vita, per passare poi all'ambiente, agli spazi verdi, così come all'impiantistica sportiva. È stato un 2023 straordinario di grandissimi investimenti, di grandissime opere. Pensate, 80 milioni di cantiere avviati e 60 milioni di risorse da far ancora avviare, quindi 140 milioni solo per alcuni anni. Quindi veramente un lavoro straordinario, ma non è soltanto di attività materiali, ma anche immateriali, perché non è solo le opere, ma sono anche il rapporto con le persone, sono le tante attività e le tante relazioni che la città ha avuto la capacità di mettere insieme. Quindi, devo dire, un 2023 veramente straordinario. Un'amministrazione che ha messo in questi anni la persona al centro, a partire dalla longevità al tema dei minori e delle scuole, degli immigrati, così come quello sulla sicurezza, ma rivolgendo sempre un'attenzione particolare verso le famiglie con maggiori difficoltà. Dare la sensazione, non solo la sensazione, ma la certezza che dall'altra parte c'è sempre qualcuno pronto ad accogliere, anche nei momenti difficili dove la porta del sindaco è sempre aperta materialmente e devo dire, per quello che mi riguarda, ho sempre cercato di essere veramente a disposizione di tutti, poi alcune volte non ci sono riuscito, e la persona è sempre stata un pilastro anche di questa attività amministrativa e anche su questo ho tante le attenzioni, anche gli aiuti, a cominciare da una scelta che abbiamo fatto in questi anni e quest'anno riconfermata, di non toccare nessuna aliquota, di non adeguare, neanche applicare gli adeguamenti Istat, nonostante ci sia una fase di infrazione, ma anche con l'applicazione dell'Isee abbiamo cercato di aiutare ad andare incontro a chi aveva redditi più bassi e quindi c'è stata un'attenzione, ma anche nell'ampliamento dei servizi, a partire dalle bambine e dei bambini, con anche nuovi progetti, nuove scuole che sono partite per 0-3 anni, che porteranno 90 posti in più, ma poi l'attenzione è su tutti i mondi, dallo sport, alla cultura, all'innovazione, al rapporto con il privato, alla pianificazione, alle strategie. Una grande ambizione e un impegno notevole da parte della Giunta per rendere la città sempre più viva, facendole assumere così un ruolo sempre più internazionale. C'è stato un lavoro anche di cooperazione internazionale, di reti con altre città e questo non è il sindaco che porta il suo nome e cognome, ma è la città che viene rappresentata in queste reti, ma hanno poi delle ricadute, significa stare in tavoli, significa stare in alleanze, significa stare in progetti che poi portano risorse aggiuntive. Le ultimissime sono oltre un milione, appena ci hanno comunicato i giorni scorsi, di un ulteriore finanziamento, ma anche tutta l'attenzione all'ambiente, ai boschi realizzati, al risparmio energetico, alla capacità di recuperare risorse dal GSE, insomma veramente a tutto campo. Poiché siamo veramente alla vigilia del nuovo anno, il mio pensiero va a tutte le fanese e fanese, tutte le persone che magari sono in questi giorni nella nostra città, per rivolgere un augurio per un 2024 che sia foriero di sviluppo, di crescita, con la speranza che sia un anno di serenità che ci porti anche alla pace, perché veramente in questa fase ne abbiamo veramente bisogno. Buon 2024 a tutti voi!